Sono profondamente deluso perché una commissione di vigilanza voluta, indicata dal Presidente come dato e come orario rispetto a precedenti audizioni non abbiamo potuto affrontare nulla degli argomenti che c'erano da affrontare se non il rinvio ad una riunione che ci dovrebbe essere il 26-27 ottobre tecnica tra i tecnici della Regione, della ALS e questa società per arrivare ad un progetto definitivo. E questo il commento di Mauro Febbo a conclusione della seduta odierna della Commissione di Vigilanza in cui ha partecipato il Presidente Luciano D'Alfonso per relazionare sul progetto di finanza dell'ospedale di Chieti. Non abbiamo capito ed era uno dei temi che doveva essere individuato come si va a collocare questo progetto di finanza di questo ospedale rispetto al DEA di secondo livello che è stato annunciato da una delibera di giunta regionale ma che non è risulta dagli atti programmatori.